Musica Giornate intense si profilano per la Chiesa Ambrosiana e per l'Arcivescovo di Milano, naturalmente entrando nella Settimana Santa, o meglio, come si dice in rita ambrosiana, nella Settimana Autentica. Domani, sabato 1 aprile, alle 20.45, in Duomo, l'Arcivescovo presiederà la veglia di preghiera in tradizione simboli, alla presenza dei 74 catecumeni, adulti che riceveranno nella notte di Pasqua i sacramenti dell'iniziazione cristiana e di una nutrita rappresentanza di giovani della diocesi, ne sono attesi oltre 2.000, che nell'anno della 38esima giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Lisbona dal 1 al 6 agosto, sono chiamate a testimoniare davanti al Vescovo il dono della fede. Durante la celebrazione l'Arcivescovo consegnerà ai catecumeni e ai ragazzi il credo simbolo della fede e ascolto della testimonianza cristiana, in duplice coppia, una da tenere per sé e una da condividere. Il tema della veglia, a cui parteciperanno i vicari episcopali e numerosi sacerdoti, verterà sul significato cristiano della Trinità. Il programma della serata di preghiera, pensato in collaborazione con i giovani delle associazioni e dei movimenti, comprenderà anche la lettura di alcuni stralci di omelie di Papa Benedetto XVI proprio sul mistero della Trinità. Durante la tradizio simboli, come detto, saranno presenti i catecumeni che nella notte di Pasqua riceveranno il battesimo nelle loro parrocchie e alcuni in Duomo. 29 di loro sono italiani, 22 europei, 11 sudamericani, 7 africani, 5 asiatici, 41 le donne, 31 gli uomini, di un'età compresa tra i 14 e i 71 anni. Collegato al momento importante che i catecumeni stanno vivendo in vista dell'iniziazione cristiana, anche il tradizionale incontro, dialogo con l'arcivescovo, quest'anno si svolgerà, come sempre, presso il Centro Pastorale Ambrosiano Schuster, in via Sant'Antonio 5, a Milano, nel pomeriggio alle 15.30. E sono anche previste, nel pomeriggio sera di sabato 1 aprile, alcune possibilità di approfondimento culturale, con la visita a chiese di Milano, che nascondono tesori di bellezza svelati e raccontati dai giovani all'interno dell'iniziativa La Via della Bellezza, proposta dalla pastorale giovanile diocesana, per unire passione per l'arte e spiritualità. Le chiese che parteciperanno alle iniziative, che saranno aperte, con giovani pronti a accompagnare i visitatori, sono Santa Maria presso San Satiro, San Giorgio al Palazzo, Santa Alessandra in Zebedia, San Marco, tutte in centro, ma anche Santa Maria Nascente, che è raggiungibile con la metro 1 fermata a QT8. Poi, nella giornata successiva, la Domenica delle Palme, con il grande pontificale, presieduto dall'Arcivescovo, sempre in cattedrale, alle ore 11, ma la processione inizierà alle 10.45. E vi sarà anche un collegamento, dai nostri studi, per una spiegazione dei riti e del significato della Domenica delle Palme stessa. E allora, appuntamento su Telenova, alle ore 10.30 circa. Con la Domenica delle Palme inizia, come si è detto, la settimana autentica, e quindi saranno molte le celebrazioni trasmesse in diretta da Telenova, a iniziare dalla Messa Crismale alle ore 9.15 di giovedì, e poi, naturalmente, alle 17.30 del giovedì santo, la Messa in cena Domini, con il rito della lavanda dei piedi. Il giorno successivo, venerdì, sempre alle 17.30, la celebrazione nella Passione del Signore, poi la Veglia Pasquale, alle ore 21 di sabato 8 aprile, e infine, alle ore 11 del giorno di Pasqua, 9 aprile, il Pontificale. Tutte le celebrazioni saranno presiedute dall'Arcivescovo, ma prima dell'inizio delle dirette, vi sarà una breve spiegazione e introduzione ai riti stessi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS